non devi fare qualche giorno a me qualche giorno vieni qua dove va ma come stanno combinando vabbè a me niente devi vedere gli altri colleghi come stanno combinando ma che è successo? non tocca che fa l'infezione cosa è successo? stavamo tutti quanti in caserma facciamo una cena che cosa cuciniamo e abbiamo deciso di fare il risotto come me? la ricetta dicevo un pugno a testa è successo così domani brodi fino a me un pugno a testa un pugno a testa